Gente, guarda, speriamo che anche questi non abbiano fatto jogging, se no chiudo il bar e apro una stazione termale. Fatti di sperare, magari li rifiugio a loro tra mezz'altro. Senti, vado a prendere l'acqua, eh. Il bicchiere è gratis, pagano le terme, pagano, va bene? Dai, andiamo. Mamma! Papà, mettiamoci qua. Oh, mi scusi, non l'avevo vista. Bene, sono accorta. Laura, vieni, ce n'è uno qui.